Interpretando Elisa Dolittle nel Pigmalione di George Bernard Shaw per la regia di Roberto Guicciardini ottenendo una candidatura come miglior attrice emergente ai premi olimpici. Oscar del teatro e nello stesso anno vince il premio Chianciano Terme. Contemporaneamente si cimenta come aiuto regista negli spettacoli Ragazze Sole, con qualche esperienza di Enzo Moscato ed Emigranti di Sawomir Mroek per la regia di Jeppe Iglesias. Oggi Marianella ha 50 anni e dal 2009 è alla direzione artistica del teatro Quirino Vittorio Gasman. Dal 2010, invece, ha assolto il ruolo di direttore artistico della rassegna autogestito dello stesso teatro. Insomma, una carriera poliedrica, la sua. Nel 2009 sposò Jeppe Iglesias. Molti ricorderanno la cerimonia al Campidoglio e la festa al teatro Quirino. La loro storia d'amore durò 13 anni e poi finì senza che la coppia avesse figli. Grazie. 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 Grazie a tutti.